Il buon senso come abbiamo fatto in questi mesi, tenere insieme salute e lavoro, diritto alla vita e diritto al lavoro, senza ruinar l'agosto a milioni di famiglie. La nostra proposta per i bimbi, sia adesso che in autunno per le scuole, sono tamponi salivari rapidi, non invasivi, senza mute, senza bighetti, senza obblighi, senza costruzione. Gli italiani si stanno facitando liberamente, spontaneamente, volontariamente, meritoriamente, quindi garantire un agosto di vita, di turismo e di spostamento senza complicare la vita degli italiani che già hanno sofferto per un anno e mezzo.